Ci troviamo in compagnia di Giusy, siamo venuti qui a trovarla per un progetto bellissimo che sarà realizzato a luglio in collaborazione con Rotary Club. Si tratta di mettere delle pedane sulla spiaggia di Borgo Bonsignore che permetteranno finalmente di giungere al mare con la sedia a rotelle. Ecco Giusy, cosa rappresenta per te questo progetto? Con questo progetto che io chiamerò l'Oesi, finalmente non dovrò aspettare fino ad agosto per andare a fare il primo bagno visto che i miei genitori lavorano fino ad agosto. E con questo progetto darò un incremento tangibile per il turismo. Certo, potrà essere anche uno sviluppo del turismo e permetterà a tutti di usufruire tra l'altro di questa struttura. Ringraziamo Giusy e Rita Montalbano per i post.